Musica Prima di iniziare con il video vi ricordo che ho creato un nuovo canale su Telegram Dove troverete ovviamente il link in descrizione da questo video Niente, il canale verrà utilizzato solamente come spam per pubblicità dei miei video e news riguardanti i modi di GTA 5 online Quindi niente, se avete Telegram e avete scaricato nel mosto cellulare vi lascio il link in descrizione Mi raccomando ragazzi entrate, dobbiamo assolutamente arrivare intorno ai 3000 membri Detto questo, nulla, io non vi rubo altro tempo, vi lascio al video Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti e bentornati qui nel mio canale Io sono Krix, oggi ragazzi sono qui finalmente, signori miei, ritornato su GTA 5 online Benvenuti e bentornati qui nel mio canale Oggi signori miei a grande richiesta, come richiesto da molti di voi Eccomi qui finalmente il video ragazzi su come poter moddare i vostri veicoli grazie a un programma sul PC E successivamente poter portare questi veicoli online grazie all'utilizzo del glitch dell'SP2MP Per chi non sapesse cosa vuol dire questo glitch, semplicemente è un glitch che vi permette di importare la modalità storia all'interno di GTA Online Grazie a questo glitch si possono sfruttare vari tipi di glitch che vi posterò successivamente nel canale sperando che questo glitch continui a funzionare In particolare ragazzi oggi appunto vi andrò a mostrare il tutorial possiamo dire Per creare i vostri veicoli moddati e successivamente portarli su GTA Online Vi anticipo da subito che per eseguire questi step dovrete aver bisogno di un programma che si può comprare e non si può craccare Quindi se deciderete di provare a craccare questo programma purtroppo ragazzi il programma non vi andrà a funzionare Al tempo stesso vi sconsiglio di spendere appunto dei soldi per comprare la licenza di questo programma Sto parlando ragazzi del Save Wizard se volete solamente fare appunto il glitch per importare o esportare appunto veicoli In particolare ci andremo a munire ragazzi di due programmi per PC Ossia appunto il programma che ci permette di esportare i salvataggi dalla nostra PS4 al nostro computer Ossia Save Wizard e un programma che ci permetterà appunto di moddare Avete capito bene ragazzi moddare i nostri progressi all'interno della storia del nostro salvataggio di GTA 5 della modalità storia Quindi insomma ragazzi è un tutorial che sicuramente molti di voi conosceranno Ma per i più novizi che magari hanno acquistato da poco il Save Wizard e vogliono provare questo glitch Per esportarsi qualche veicolo magari qualche veicolo moddato qualche esclusiva cose di questo tipo su GTA Online Beh diciamo che questa è la soluzione che fa per voi Ovviamente a riguardo dell'SP2MP arriveranno altri glitch come anche delle versioni spiegate meglio Perché so che 33 minuti di video non li guarderanno tutti quindi appunto ci sono varie versioni e vari glitch che possiamo appunto sfruttare Avendo i personaggi della storia su GTA Online ma di questo ve ne andrò a parlare in un altro video Prima di iniziare ragazzi sapete già cosa fare mi raccomando il vostro mitico pollicione in sub bomba Questo video che a me fa veramente tanto piacere Inoltre ragazzi sono in after quindi mi raccomando un mi piace perché cercherò di lavorare a quanti più video possibili oggi Perché sono molto sicuro che tra meno di qualche giorno questo glitch verrà appacciato Quindi appunto cercherò di postarvi nel canale tutti i contenuti come anche i glitch che appunto possiamo sfruttare facendo il glitch SP2MP SP2MP in inglese sta per single player to multiplayer Ossia appunto un glitch che ci permetterà di esportare la modalità storia all'interno di GTA Online Quindi potremo appunto utilizzare i peyote potremo recarci al deposito rimozione forzata Che sarebbe l'impound che andremo a utilizzare in questo video grazie al programma che ci permetterà di moddare il nostro salvataggio Troverete nella descrizione ovviamente i vari salvataggi da poter usare Se non ne avete uno magari da voler rovinare diciamo Ecco ne potrete utilizzare uno e se avete la licenza del Save Wizard potrete appunto applicare il proprietario al vostro account di uno di questi salvataggi che trovate nella descrizione Troverete anche nella descrizione ovviamente il link per scaricare GTA V Save Editor Veramente ragazzi è molto semplice Basterà schiacciare sul link in descrizione schiacciare sul bottone verde dove c'è scritto installer Il computer a questo punto vi farà scaricare un file zip dovrete estrarre questo file zip e dovrete installare il file .exe che appunto vi uscirà estraendo l'archivio zip A quel punto eseguite come amministratore installate questo programma e quando vi chiederà cosa volete installare semplicemente andate appunto a installare GTA V Save Editor Mentre invece per quanto riguarda il Save Wizard dovremo semplicemente scaricare appunto il file .exe di Save Wizard e inserire la licenza che potremo appunto comprare sul sito È sconsigliato per chi magari è novizio e non sa come usarlo e sicuramente questo glitch verrà appacciato a breve quindi vi sconsiglio appunto di usarlo Se volete appunto provare ad esportare qualche veicolo perché come già detto fra meno di qualche giorno questo glitch verrà appacciato Inoltre ragazzi volevo scusarmi per la scarsa qualità che vedete nel video ma ho registrato tutta la clip praticamente con OBS Sto avendo problemi con OBS per quanto riguarda appunto le registrazioni Evidentemente non l'ho settato al meglio quindi se ogni tanto vedrete qualche piccolo lag è perché appunto non ho impostato al meglio OBS Ma per non buttare una clip e non buttare appunto tempo di lavoro e di dimostrazione per fare questo tutorial ovviamente ho deciso di riutilizzarla Tanto sti cazzi sicuramente posterò un video aggiornato anche su questa cosa affinché ovviamente questo glitch continuerà a funzionare Possiamo subito iniziare con il video e la prima cosa da fare ragazzi sarà praticamente avere una USB Sicuramente avrete letto i requisiti appunto nell'immagine dovrete avere una USB preferibilmente utilizzabile solo per PS4 Dovrete anzitutto collegare la USB all'interno della vostra PS4 una volta fatto ciò vi andate a copiare il salvataggio Vi metterò degli screen appunto qua nel video per farvi capire come poter copiare il vostro salvataggio E dovrete in particolare andare a copiare il salvataggio che come vedete in questa foto dovrà pesare 10,49 Non dovranno esserci parentesi o cose di questo tipo vicino al salvataggio quindi appunto dovrete prendere praticamente il salvataggio Che pesa 10 MB e 49 dove c'è scritto il nome della missione e basta ovviamente poi la data e l'ora Accettate di voler copiare sulla vostra USB e una volta che il file sarà praticamente stato copiato sulla vostra USB Quello che dovrete fare sarà estrarre la USB dalla vostra PS4 e importarla al vostro computer Una volta che avrete importato la USB al vostro computer da qui ragazzi potremo iniziare In ogni caso cercherò di andare con calma nel video per farvi capire tutti quanti e vi andrò a mostrare anche come fare l'SP2MP su GTA Online Per chi magari non fosse ancora capace di farlo cercherò di spiegare anche quello con calma e con dettaglio ma vabbè a questo ci arriveremo Quindi una volta collegata la nostra USB al nostro computer potremo iniziare a creare diciamo i nostri veicoli moddati Quindi la prima cosa da fare sarà appunto aprire il Save Wizard come state vedendo aprite il Save Wizard ripeto dovrete comprare la licenza perché il programma non si può Craccare per prima cosa appunto dopo aver inserito la USB andate ad aprire il Save Wizard a questo punto il Save Wizard vi darà una schermata di avvio voi schiacciate sul tasto ok e lasciate Caricare il Save Wizard a questo punto una volta che il Save Wizard avrà caricato vi ritroverete con questa schermata ci sarà la vostra USB con i vostri dettagli dei salvataggi In questo caso io avevo due salvataggi ma voi dovete copiarne solamente uno e quell'unico file che vedrete appunto all'interno della cartella sarà il salvataggio che andremo a utilizzare Ovviamente come vedete a me c'è registrato appunto il mio profilo c'è scritto click su YouTube praticamente una volta che avrete inserito la licenza dovrete appunto registrare il profilo Basterà schiacciare col click destro dove vedete appunto su current game progress fare registrare profile inserire un nome del vostro account e una volta fatto ciò il Save Wizard appunto avrà registrato il vostro account A questo punto quindi per iniziare quello che dovremo fare sarà praticamente prendere il nostro current game progress ossia il salvataggio che abbiamo copiato precedentemente dalla nostra PS4 Dovremo schiacciare con il click destro sul file ovviamente schiacciando poi per prima cosa sulla freccia che indica verso destra in modo che appunto apriremo la cartella Troveremo il file schiacciamo il click destro del mouse e facciamo ragazzi Advanced Mode così come state vedendo nel video Seguite appunto il video fate il copia e incolla e non avrete problemi appunto a fare il glitch Quindi a questo punto una volta che l'Advanced Mode avrà caricato ovviamente ragazzi lasciate caricare ci vorrà un pochino dipende quello dalla vostra connessione e dalle vostre specifiche del vostro computer Quindi semplicemente una volta che si sarà aperta l'Advanced Mode come vedete vi ritroverete con questa schermata con tutti i codici e tutti i numeri Lasciate perdere questi codici quello che ci interesserà ragazzi sarà schiacciare su questo pulsante che vedete nel video dove ci sarà scritto export file Praticamente dovremo schiacciare su export file e dovremo selezionare diciamo una directory dove appunto salvare il nostro file Che come vedete si sarà salvato in questo caso a me nel desktop quindi nello schermo del computer Praticamente l'export file servirà a esportare appunto il file da potermos dare che sarà il nostro salvataggio Una volta aver esportato il file tutto quello che dovrete fare sarà aprire GTA 5 Save Editor Una volta fatto ciò dovrete appunto installare il Save Editor se non l'avete installato Quando lo andrete ad aprire vi farà questa schermata In questa schermata semplicemente andate a schiacciare sul pulsante dove vi farà cliccare appunto su GTA 5 Quindi una volta fatto ciò vi si aprirà questa schermata dove ci sarà scritto GTA 5 Save Editor by XB36 Hazard Lasciate perdere questa schermata andate a schiacciare ragazzi su open file come avete visto nel video Una volta che avete schiacciato su open file il computer vi aprirà una cartella in questo caso a me del desktop Quindi appunto dello schermo del computer e dovrete praticamente andare a selezionare il file che abbiamo estratto poco fa con il Save Editor Quindi facciamo doppio clic sul file e il Save Editor ci appunto aprirà il salvataggio A questo punto saremo all'interno del nostro salvataggio che abbiamo fatto precedentemente prima dalla nostra PS4 E a questo punto potremo appunto moddare le caratteristiche dei personaggi applicare l'invincibilità e insomma come avete visto dal video Lasciate perdere questa opzione perché l'opzione che ci servirà ragazzi sarà l'opzione garage Quindi con il mouse schiacciate sul tasto garage e come vedete vi si aprirà questa schermata Quello che ci interesserà a noi in questo caso in particolare sarà l'impound L'impound per chi non lo sapesse vuol dire deposito di emozione forzata Che sarebbe appunto il deposito di emozione forzata che possiamo avere nella storia Qui invece adesso come avete visto nel video potremo scegliere i due veicoli da portare nell'impound Qui a sinistra dove ci saranno i nomi dei veicoli ovviamente potremo scegliere il nome dei veicoli Quindi potremo scegliere appunto il veicolo che vorremo successivamente portare nell'impound E successivamente appunto esportarlo sul gt online Se vi appariranno alcuni messaggi schiacciate sul secondo tasto dove vi dirà never show again Insomma è veramente semplice ragazzi seguire E una volta fatto ciò vi ritroverete in questa schermata Schiacciando sul pulsante verde con la V come avete visto il save editor applicherà le statistiche massime al veicolo Quindi armatura, freni eccetera eccetera Possiamo selezionare la targa lì dove vedete che c'è scritto Crix YouTube Potremo mettere la targa di North Yankton I finestrini verdi Dei colori moddati che appunto possiamo applicare solamente con questo programma E infine il fumo patriottico o comunque dei colori del neon personalizzato Come anche ragazzi le ruote di Bennys Quindi su qualsiasi veicolo appunto potremo portare le ruote di Bennys E successivamente portarle su GTA Online In questo caso non so come applicare con il save editor le ruote da Formula 1 Dovrò un po' lavorarci ragazzi E se riuscirò a trovare qualcosa ve lo farò sapere nel mio canale Telegram O sul mio profilo di Instagram Quindi insomma come vedete qui sto continuando a moddare Potete scegliere anche il colore appunto moddato dei cerchioni E diciamo che questo programma è appunto fatto apposta Per creare appunto veicoli particolari Una volta aver finito di moddare praticamente i nostri veicoli Ci tengo a sottolineare una cosa ragazzi Che potremo in questo caso se sceglieremo tipo dei veicoli come la LG Retro Custom Sempre dallo stesso programma potremo applicare anche i paraurti Gli spoiler, le marmitte e quant'altro Senza dover spendere appunto soldi o nella modalità storia o su GTA Online Le appliciamo direttamente dal programma Una volta che abbiamo finito semplicemente di moddare ragazzi il nostro salvataggio Quello che dovremo fare sarà schiacciare sul pulsante come vedete con il mouse Dove ci sarà scritto Save File Qui ragazzi vi ho messo la clip rallentata Quindi andate a schiacciare su Save File Una volta che avete finito appunto di moddare i vostri veicoli nell'impound Ovviamente non ci sarà modo di vedere quali colori avete applicato Dovete per forza entrare nel gioco e appunto controllare quali tipi di colori avete messo Una volta fatto ciò dopo aver salvato il file confermate sulla schermata che vi si aprirà Dove vi dirà che il file è stato salvato Successivamente schiacciate su Close File e chiudete GTA V Save Editor Vi consiglio di ridurlo a icona nel caso vogliate riutilizzarlo Altrimenti nel caso non vi interessa più utilizzarlo schiacciate sul tasto X per chiudere la finestra A questo punto ritorneremo sul Save Wizard Come avete visto dal video dovremo schiacciare praticamente sul pulsante in fondo a tutto Dove ci sarà scritto Import File A questo punto schiacciamo sul pulsante Import File Il PC ci aprirà appunto la cartella dove abbiamo salvato precedentemente il nostro file Quello che dovremo fare sarà semplicemente confermare con il doppio clic Di voler importare il file all'interno appunto del Save Wizard A questo punto una volta importato il file non succederà assolutamente niente Vi ritroverete appunto con questa schermata dei codici Quello che dovrete fare sarà semplicemente schiacciare un numero sulla tastiera Vi consiglio di schiacciare il tasto 0 o di evitare di pagare qualcosa Una volta aver schiacciato il numero sulla nostra tastiera Il Save Wizard ci darà questo errore Questo errore ragazzi non lo confermiamo Ma schiacciamo sul tasto X per chiudere la finestra Una volta fatto ciò semplicemente schiacciamo sul tasto Apply E lasciamo appunto caricare il salvataggio all'interno del Save Wizard Una volta che il salvataggio avrà finito di essere importato Confermiamo la schermata che ci apparirà con il tasto OK E una volta fatto ciò il nostro salvataggio con i veicoli moddati ragazzi sarà stato importato correttamente Ora semplicemente andiamo a chiudere il Save Wizard In ogni caso ragazzi la spiegazione è molto molto semplice Una volta fatto ciò chiuso il Save Wizard Dovremo estrarre quindi facendo la rimozione sicura della nostra pennetta dal nostro computer E quello che dovremo fare sarà recarci sulla nostra PS4 Una volta che saremo arrivati ragazzi sulla nostra PS4 Qui a questo punto potremo andare a praticamente copiare il file dalla nostra USB E metterlo all'interno della nostra PS4 Basterà andare sulle impostazioni Andare su gestione dei dati salvati nella memoria archiviazione USB Andare ragazzi dove ci sarà scritto copia nella memoria di archivazione del sistema E andare appunto a copiare il file che abbiamo precedentemente moddato dal nostro computer Il file ricordo che dovrà pesare solamente 10 MB e 49 Non dovranno esserci scritte come backup come dati salvati e cose di questo tipo Dovrà esserci appunto il nome della missione e la data e l'ora di quando avete fatto questo salvataggio Applicate la modifica schiacciando sul pulsante applica tutto e poi confermando Una volta fatto ciò aspettate la copia come avete visto nel video E a questo punto avviate ragazzi GTA 5 A questo punto una volta avviata la storia di GTA 5 Quello che dovrete fare sarà praticamente recarvi all'impound Ossia al deposito di rimozione forzata Quindi una volta essere arrivati ragazzi all'impound Vi consiglio di anzitutto richiedere i veicoli che avete precedentemente moddato Per vedere o comunque per capire se la mod che avete applicato vi piace o meno Per il semplice motivo che se non vi piace la mod che avete applicato La potete cambiare dal save editor Quindi praticamente è inutile portare una mod che non vi piace online Per appunto poi avere un veicolo moddato che non vi piace Quindi semplicemente rivire cada l'impound Scegliete il veicolo che vorrete visualizzare E una volta fatto ciò ragazzi come state vendendo dal video Ci ritroveremo praticamente il nostro veicolo moddato signori miei Con tutte le modifiche che in questo caso abbiamo applicato precedentemente dal programma Quindi in questo caso la targa di North Yankton I finestini verdi, dei colori moddati, il fumo patriottico Eccetera 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 Ovviamente ricordo che nel save editor potremo ovviamente applicare una targa personalizzata Appunto digitando il nostro nome Facendo praticamente questa targa anche di North Yankton Quindi insomma veramente ragazzi fantastico Qui come vedete l'altro veicolo moddato era questa LG retro Tutta blu, nulla di che insomma Devo dire che non era male ma non ho deciso di portarla online Ci ho fatto solamente appunto il video per mostrarvela Praticamente una volta che avremo scelto i nostri veicoli e le nostre mod Chiedo scusa ragazzi se ogni tanto vedete la clip che lagga ma ripeto ho impostato male OBS per le registrazioni Sicuramente nei prossimi video cercherò di migliorare Praticamente come si fa per portare il veicolo online È veramente molto molto semplice Per prima cosa anzitutto dovremo fare lo step di preparazione per fare l'SP to MP Quindi per prima cosa dovremo premere il menu di pausa dalla modalità storia Andare ragazzi sulla sessione online Andare su gioco a GT online e schiacciare su una sessione solo ad invito A questo punto il gioco ci caricherà una sessione solo ad invito Quello che dovremo fare sarà per prima cosa assicurarci che il luogo di rientro sia impostato su casuale Una volta che ci saremo assicurati di questa cosa Cacciamo semplicemente un'arma dalla nostra ruota delle armi Spariamo qualche proiettile ragazzi Una volta fatto ciò andiamo nel menu interazione Andiamo su inventario Andiamo sulle munizioni e compriamo una munizione praticamente Fatto questo usciamo dalla sezione appunto munizioni Andiamo su accessori e andiamo a cambiare appunto uno stile al nostro personaggio Fatto questo nel gioco ci sarà l'icona di caricamento arancione Che vi farà capire che il gioco avrà salvato Una volta che il gioco avrà salvato Semplicemente premete il menu di option Quindi il menu di pausa Andate sulla sezione online e andate ragazzi a fare esci da GTA online Molto semplice A questo punto il gioco vi farà uscire da GTA online E vi caricherà la modalità storia Una volta che vi troverete all'interno della modalità storia Quello che dovrete fare sarà andare nel menu di opzioni Andare su partita Andare su carica partita ragazzi E dovrete caricare praticamente l'ultimo salvataggio Che avrete appunto importato e moddato con il save editor Quindi lasciate caricare il salvataggio Una volta fatto ciò vi ritroverete appunto nel stesso posto di prima Dipende dove avete fatto il vostro salvataggio rapido E quello che dovremo fare a questo punto sarà iniziare il glitch per fare l'SP2MP Quindi per prima cosa dovremo fare il trucco da ricercato Vi lascerò il codice come anche il trucco All'interno di questo video come anche nella descrizione Se vi capita ragazzi di prendere due stelle Semplicemente fate il trucco per diminuire il livello di sospetto E quindi tornare a una stella da ricercato A questo punto i poliziotti si avvicineranno a voi Dovrete aspettare che il vostro personaggio della storia Metterà le mani in alto E quando praticamente ragazzi il vostro personaggio alzerà le mani al cielo Quello che dovrete fare sarà premere il menu di pausa Andare sulla sezione online E praticamente dovrete posizionarvi sulla sezione seleziona personaggio Quindi una volta che vi sarete posizionati su questa opzione Quello che dovrete fare sarà uno step molto importante Quindi ascoltatemi bene Perché se non vi riesce questo step dovrete chiudere il gioco e riaprirlo Una volta che quindi il vostro personaggio si sarà trovato con le mani al cielo E voi vi troverete sulla selezione seleziona personaggio Quello che dovrete fare sarà premere il tasto ps o comunque il tasto xbox Il gris ragazzi funziona ugualmente Andate quindi nelle impostazioni Andate sulla rete ragazzi E andate praticamente a togliere la spunta dove c'è scritto connetti ad internet Con il tasto x appunto togliete la spunta E la riattivate successivamente dopo un millisecondo Ritornate nel gioco premendo due volte il tasto ps velocemente Ora come vedete ci sarà un sottomenu segreto In questo sottomenu segreto ragazzi dovremo muoverci praticamente con la freccetta in alto O la freccetta in basso E dovremo selezionarci praticamente su seleziona personaggio Una volta che saremo sicuri che saremo posizionati su seleziona personaggio Quello che dovremo fare sarà aspettare che nel gioco tornerà la connessione E adesso ascoltatemi bene Appena vedrete praticamente che l'opzione seleziona personaggio si potrà cliccare Dovrete molto velocemente spammare quindi premere ripetutamente due volte il tasto x Per appunto entrare nella selezione del personaggio A questo punto semplicemente succederanno due cose O come me nel video il gioco vi porterà nelle nuvole E successivamente vi farà una schermata Oppure praticamente in questo momento Prima che il gioco inizia a caricare i flash del cielo Vi dovrà fare la schermata dove ci sarà scritto Al momento i servizi di gioco Rockstar non sono disponibili Ed è quello che appunto ci servirà Quindi nel caso non becchiamo questa schermata Ma succederà la stessa cosa come è successa a me nel video Il gioco vi porterà nel cielo E dopo qualche secondo vi farà comparire questa schermata di attenzione Dove vi dirà che la connessione con i server cloud di Rockstar è stata ripristinata Su questo messaggio di attenzione ragazzi Semplicemente schiacciamo con il tasto cerchio A questo punto il gioco ci farà ritornare nella modalità storia E dovremo appunto rieseguire questo primo passaggio Per entrare online con il personaggio della storia appunto da capo Quindi semplicemente attiviamo il trucco da ricercato Una sola volta perché dovremo ricevere solamente appunto ragazzi una stella A questo punto dovremo ovviamente farci arrestare dalla polizia E quando praticamente la polizia sarà arrivata vicino al nostro personaggio E il nostro personaggio avrà messo le mani al cielo Come prima premete il menu di pausa Quando il vostro personaggio si troverà con le mani al cielo Andate sulla selezione online Andate sulla selezione seleziona il personaggio Ma senza entrare mi raccomando dovrete solamente appunto posizionarvi sulla selezione A questo punto una volta che sarete posizionati in questo modo Dovrete semplicemente premere due volte il tasto PS E la PS4 in questo caso vi riporterà appunto alla schermata della connessione Dovrete togliere la spunta a connetti a internet In questo modo il glitch vi riesce un po' più facilmente Quando avrete tolto la spunta a connetti a internet Tornate nel gioco premendo due volte il tasto PS velocemente E con le freccette su o giù Vi appunto posizionate sulla selezione del personaggio Quindi una volta che sarete sicuri che vi sarete posizionati su selezione al personaggio Quello che dovrete fare sarà premere due volte il tasto PS E la PS4 vi riporterà all'interno delle impostazioni della connessione alla rete Dovrete a questo punto attivare la spunta su connetti ad internet E una volta fatto ciò dopo attivato la spunta Premete due volte il tasto PS e ritornate all'interno del gioco Ancora una volta a questo punto come prima Lasciate caricare tutte le opzioni appunto si potranno caricare E appena dovrete essere molto veloci ragazzi Altrimenti il passaggio non vi riesce Appena vedrete praticamente che la selezione del personaggio si potrà cliccare Quindi si potrà confermare Premete ripetutamente quindi spammate due volte il tasto X Molto velocemente Se avete fatto a questo punto il clic correttamente Il gioco vi darà la schermata che stiamo cercando Ossia la schermata ragazzi del Al momento i servizi di gioco Rockstar non sono disponibili Dovremo stare fermi su questa schermata Ora come avete visto dal video Dovremo semplicemente andare a partecipare Da un nostro amico Che dovrà trovarsi in una sessione solitaria In una missione o comunque una gara Se non avete amici ragazzi vi consiglio di entrare all'interno della mia community Troverete il mio profilo Krix V2 è sempre in AFK Per appunto farvi fare il glitch Quindi se non avete amici con cui fare questo glitch Che magari possono aiutarvi Entrate nella community Troverete il link nella descrizione Come anche appunto il nome della community nella descrizione E nel commento bloccato in alto Quindi quello che dovrete fare sarà appunto andare a questo punto a partecipare dal vostro amico Ovviamente sottolineo avendo la schermata dove vi dice che i servizi di gioco Rockstar non sono disponibili Quindi semplicemente quello che dovrete fare sarà andare a schiacciare X Per confermare di voler partecipare alla sessione dal nostro amico A questo punto la PS4 in questo caso ci farà ritornare nel gioco E dovremo ragazzi aspettare circa 7 secondi su questo messaggio dei servizi di gioco Rockstar Passati questi 7 secondi semplicemente confermate E aspettate fino a quando in basso a destra Come avete visto da questo zoom del video Non vi dirà niente Praticamente non dovrà esserci nessuna scritta Una volta che non ci sarà nessuna scritta Semplicemente aspettiamo Ritorniamo nel party con il nostro amico Premendo due volte il tasto PS E andiamo a schiacciare X su partecipa alla sessione A questo punto come vedete il gioco ci darà un primo messaggio di avviso Dovremo confermarlo Successivamente dopo aver confermato il primo messaggio Il gioco ci farà apparire un altro messaggio di avviso Anche questo messaggio ragazzi lo confermiamo E una volta fatto ciò Molto velocemente appena avremo confermato anche il secondo messaggio Dove ci dirà che la sessione è praticamente privata Appena vedremo in basso a destra nel nostro schermo La scritta ti stai unendo a GTA Online Molto velocemente ritorniamo nel party O comunque nella community E andiamo a partecipare dal nostro amico Che si trova a trovare in AFK In la missione o insomma che sia Quindi una volta aver schiacciato su partecipa alla sessione A questo punto il gioco ci ridarà di nuovo Il messaggio di attenzione Dove ci dirà se vogliamo unirci a una diversa sessione di GTA Online Su questo messaggio ragazzi non dovremo fare niente Quindi siamo fermi E il messaggio andrà via da solo A questo punto semplicemente quello che succederà Sarà che il gioco inizierà a trovare una sessione pubblica E come vedete potete capire se il glitch ha funzionato Perché vedrete durante la schermata del caricamento Questa visuale praticamente in HD Appunto della mappa del gioco Quindi per questo passaggio In questo caso se abbiamo fatto tutti i passaggi correttamente Dovremo aspettare circa un 1-2 minuti Appunto bloccati nel cielo Che il gioco troverà la nuova sessione Vi consiglio Visto che spawneremo in una sessione pubblica Vi consiglio di mettere l'MTU ad 850 In questo modo il caricamento della sessione pubblica sarà minore E non ci saranno appunto giocatori Che magari vi uccideranno Di conseguenza vi faranno fallire il glitch Una volta fatto ciò Che quindi sarete spawnati all'interno della nuova sessione Riceverete un messaggio di attenzione Dove vi dirà se volete unirvi a una diversa sessione Avrete poco tempo ragazzi Per cancellare Quindi rifiutare questo messaggio Avrete circa 5-6 secondi Se non rifiutate questo messaggio Entro questi secondi Il personaggio praticamente non si sdoppierà Quindi praticamente non comparirà Il personaggio della storia Seguito appunto dal personaggio vostro di GTA Online Appena spawnati online Semplicemente cancellate il messaggio E una volta fatto ciò ragazzi Avrete eseguito il glitch dell'SP2MP Molto molto semplice Come avete visto si tratta di pochi passaggi E a questo punto una volta che ci troveremo online Con il personaggio di Franklin Tutto quello che dovremo fare sarà praticamente Se non sappiamo dove si trova l'impound Basterà seguire le indicazioni nella mappa Dove ci sarà scritto deposito rimozione forzata Quindi arrivare al deposito rimozione forzata E come vedete il deposito rimozione forzata Funzionerà all'interno della sessione di GTA Online Quindi semplicemente premete freccia destra E confermate di voler cacciare Possiamo dire un veicolo In questo caso il veicolo Che avete moddato precedentemente dal save editor Che avete in questo momento adesso appunto portato Su GTA Online Una volta fatto questo ragazzi Avrete il vostro veicolo importato All'interno di GTA Online E a questo punto se volete depositarlo All'interno del vostro garage Quello che dovrete fare sarà praticamente Suicidarvi Il gioco vi farà una schermata buggata E a questo punto Responderete con un personaggio Che non sarà il vostro Ma risponderete con un personaggio Quello che dovrete fare a questo punto Sarà chiamare un amico E fare il glitch del give card to friend Quindi ricevere o Avere veicoli moddati dai vostri amici Per appunto diciamo depositare I veicoli moddati Che vi siete appunto portati Dal pc Quindi praticamente dal save editor All'interno del vostro account di GTA Online Quindi semplicemente Per depositare i veicoli Una volta fatto questo Dovremo appunto entrare Online con Franklin Andiamo a selezionare Dal deposito di rimozione forzata Quindi dall'impound Il veicolo che vorremmo in questo caso depositare Una volta che abbiamo estratto il nostro veicolo Quello che dovremo fare Sarà appunto suicidarci con il personaggio E fare il glitch del give card to friend Quindi appunto dare o ricevere veicoli dai vostri amici Vi lascerò ovviamente Nella descrizione Come anche nelle schede qui in alto a destra Due video Per essere sincero Che appunto ho fatto A riguardo di questo glitch Per appunto ricevere o dare veicoli dai vostri amici Su GTA Online Detto questo ragazzi Che dire Nulla Io spero che questo video Non faccio mai tutorial Più che altro faccio glitch È strano dire per me tutorial Spero che questo tutorial Vi sia stato utile E vi sia piaciuto Se così è stato mi raccomando ragazzi Un big pollicione in su di supporto Io vi saluto Vi ringrazio Noi ci vediamo più tardi Con tanti altri nuovi glitch Inerenti a questo SP2MP Imparate ovviamente la tattica Per entrare online Fatemi sapere che cosa ne pensate Ovviamente qui giù nei commenti Ci ho fatto anche un video Del perché molte persone Non riescono ad entrare online Questo problema È dato purtroppo Dalle politiche Se appunto inizi a darvi Il problema delle politiche Lasciate perdere ragazzi Perché sto lavorando A delle soluzioni Ma purtroppo Per bypassare queste politiche Purtroppo ragazzi Non c'è nulla Ho provato a sospendere l'app Ho provato di tutto e di più Purtroppo ragazzi Queste politiche Non c'è modo di confermarle Però Tutto sommato Se avete un salvataggio Che su Save Wizard Non vi dà problemi Magari avete il salvataggio Completo al 100% Con anche tutti e tre I personaggi sbloccati Potreste provare Appunto a fare il glitch Normalmente dovrebbe darvi Appunto la schermata Per entrare online Troverete nella descrizione Un mio salvataggio Molto molto vecchio Dove appunto Il salvataggio è al 100% E ci sono tutti e tre I personaggi sbloccati Quindi basterà scaricare Il salvataggio Importarlo dall'import file Di Save Wizard Applicarlo sul vostro profilo E provare a fare il glitch Se vi funziona Allora Copiate il file Sulla pennetta Lo portate su Save Wizard Lo estraete Fatto ciò Lo aprite con Save Editor E lo moddate Io ragazzi Spero di essermi spiegato al meglio Se così è stato Anche perché ho fatto un video Di 30 minuti In altro po' Quindi Se non l'ho spiegato io In questo video Scrivetemelo Davvero Vi ricordo di seguirmi su Instagram Nel mio canale Gruppo Telegram Troverete anche questi link Nella descrizione E iscrivetevi al canale Per altri contenuti Attivato la campanellina Che trovate accanto Al numero degli iscriviti Io vi saluto Vi ringrazio ragazzi Guarda Clicks E' tutto Noi ci si becca Come al solito Con un prossimo video Prossima live O un prossimo glitch Bella Vagliuuu Noi ci si becca